Salve a tutti, sono col cugino di 60, mi mette sempre nei casini questo gatto, ma che bordello? E' impazzito! Cosa facciamo lì? Io direi di andare in polizia là sotto, mi aspettiamo lì eh, li facciamo fuori là. Sì, 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 intanto poi ti devi costituire, l'hai ammazzato quello là, sì perché prima, prima mi ha detto che doveva ammazzare uno, infatti stanno arrivando, ce l'abbiamo dietro lì. Sì, io li aspetto nell'angolo. Sto subito la pompa. Figlio di puttana, l'ha fatto da te, bastardo. Eh, lì, eh? Hai visto lì? Anche tu sei un altro ubriaco lì. Eh, sei forte, anche tu sono un ubriaco. Vai, vai, vai dentro. Vai in galera, vai. Sì, ma il tuo cugino è fuori di testa. Ci fa dare le... Ci fa dare le pistole in un sacchetto. E' impazzito il tuo cugino. No! Ah! Grazie a tutti.